Bene, anche oggi andiamo a trascorrere una bella giornata, sempre in compagnia di amici infatti oggi, in questa giornata di allenamento sulla caccia al Fagiano, faremo qualche rilascio e oggi in questo allenamento ci sarà ovviamente Chico, ci sarà l'amico Roberto, ci sarà Francesco doveva esserci anche Mirko che veniva direttamente da Casal Monferrato purtroppo per un problema dato da un utite molto forte, non è potuto venire ma comunque nessun problema, rifaremo un'altra giornata dove anche lui sicuramente sarà dei nostri ok, è tempo di arrivare in riserva, ci vediamo tra poco Bene ragazzi, oggi facciamo un po' di allenamento sul Fagiano, siamo in riserva e quindi faremo qualche rilascio oggi con noi c'è l'amico Roberto, Chico che non manca mai, Francesco che ci ha raggiunto con l'amico Teo che in questo momento non ha ancora il suo Air Race ma l'anno prossimo sicuramente anche lui avrà il suo maschio di Air Race andiamo a fare questa bellissima giornata adesso andiamo con Merida siamo i primi da andare bene ciao Grazie. Grazie. Dip 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 dip. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, ora è il momento di Connor Vediamo un po' come si comporterà in questo rilascio di allenamento La merida prima è andata direi benissimo E adesso vediamo il nostro giovane Connor Come si comporterà Vai Bravo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto Che legnata gli ha dato Al volo E ma non l'ha preso Vai su vai su impianta Vai su bravo Vai su Tira tiraglielo fuori È andato qua sotto No, la mini, la mini Cozzo Sono ancora qua Sono ancora qua Sono ancora qua Sono ancora qua Vesso impianta Dio porchi! Oba! 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 Che fai niente! Dai! Vedi che gli fai là! Hai mai visto che finte fanno? Basta Eccolo Perfetto! Perfetto! Per un pelo! No no basta molla molla Il fagiano dove è andato? Eccolo la torna indietro il fagiano lo vedi? Oba! Perfetto! 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 È là! Piazza! 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 adesso è il momento di wallace ultimo di oggi vediamo un po come andrà fino adesso anche connor è stato veramente molto bravo stoccata al volo non è riuscito a trattenere e poi cercato di catturare a terra ma si è nascosta tra la catasta di legna e poi da quella casa partita la mini lepre lui subito pronto bene vediamo wallace adesso a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.